Il doppio mento è un tuo problema? Capiamo innanzitutto a cosa è dovuto il doppio mento. Le cause possono essere una postura sbagliata, chilogrammi in eccesso, quindi accumulo di adipe, e il cedimento muscolare. Può darsi quindi che tu possa eliminare il doppio mento già adottando una postura corretta, quindi dritta, oppure con una dieta equilibrata. Nel caso di cedimento del tono muscolare invece può esserti di aiuto lo yoga facciale, che con degli esercizi mirati va a tonificare proprio quella zona, rendendo il tuo aspetto molto più gradevole.